La Tianjin Tenteng Opto Electronics Technology Co. LTD è stata fondata nel 1995 ed è un'impresa nazionale ad alta tecnologia che, integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendita, situata nella città costiera settentrionale della Cina, Tianjin. L'azienda si concentra sulla produzione di componenti e parti ottiche di precisione e, dopo anni di accumulo tecnologico e espansione del mercato, è diventata uno dei principali produttori nel campo dei componenti ottici in Cina. I prodotti dell'azienda coprono un'ampia gamma e ricevono ampi consensi sul mercato, con settori di servizio che includono strumenti ottici, obiettivi industriali, attrezzature didattiche, sistemi di automazione, dispositivi medici, strumenti di misurazione, attrezzature militari, applicazioni spaziali e osservazione astronomica in vari campi ad alta tecnologia. Tenteng Opto Electronics dispone di oltre 3.000 metri quadrati di stabilimenti di produzione moderni, dotati di oltre 120 macchine di produzione avanzate, che coprono una varietà di capacità di lavorazione di componenti ottici con diametri che vanno da 1 mm a 5.0.0 mm. I principali materiali di lavorazione includono vetro ottico, quarzo fuso UV, fluoruro di calcio, fluoruro di magnesio, fluoruro di bario, silicio monocristallino, germanio monocristallino, selenio di zinco, solfuro di zinco e vetro colorato. La diversità di questi materiali consente all'azienda di produrre vari tipi di componenti ottici complessi. I prodotti dell'azienda sono vari e includono principalmente lenti ottiche sferiche, prismi, lastre di finestra, specchi piani ad alta precisione, filtri, lenti a onda, lenti infrarosse, cristalli laser e vari componenti ottici personalizzati, componenti di forma speciale, assemblaggi di obiettivi, e inoltre possono offrire vari servizi di rivestimento per soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti. Tenteng Opto Electronics presta attenzione alla gestione della qualità del prodotto e ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 nel 2006 attuandola rigorosamente. L'azienda è dotata di attrezzature di controllo qualità di prima classe, tra cui interferometri sferici, interferometri piani, curvimetri, misuratori di distanza focale, goniometri, altezze e spettrometri, per garantire la precisione e la stabilità della qualità dei prodotti. La lucidatura e il controllo dell'aspetto dei prodotti si basano principalmente su lampade ad alta intensità, sorgenti di luce fredda, faretti, lenti di ingrandimento e microscopi. Ci sono oltre 2000 tipi di campioni di riferimento piani e sferici. I componenti ottici prodotti dall'azienda non solo vengono misurati e controllati con precisione in termini di dimensioni e tolleranze, ma il processo di lucidatura è rigorosamente conforme ai risultati delle misurazioni di precisione, per garantire che tutti i prodotti soddisfino i più rigorosi standard internazionali. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo dei prodotti, l'azienda dispone di un forte team di ricerca e sviluppo, in grado di progettare e sviluppare prodotti su misure in base alle esigenze dei clienti. L'azienda è specializzata nella produzione di componenti ottici asferici e dispone di attrezzature di lucidatura, asferica a controllo numerico sviluppate autonomamente, combinando attrezzature di fresatura Satislo tedesche e strumenti di profilometria Taylor-Obson britannici ad alta precisione, per garantire la produzione ad alta precisione di lenti asferiche. Attualmente, l'azienda è in grado di produrre centinaia di tipi di lenti ottiche asferiche, ampiamente utilizzate in osservazioni astronomiche, attrezzature di ricerca e tecnologia laser in vari campi avanzati. L'autocollimatore TT400 sviluppato autonomamente dall'azienda è un autocollimatore ad alta precisione, con caratteristiche di grande apertura e basso F cancelletto, che combina tecnologia di oculari elettronici, tecnologia di sensori di immagini ad alta risoluzione e tecnologia di elaborazione digitale delle immagini integrata, in grado di misurare con alta precisione gli angoli nelle direzioni decima Y, con alta precisione e stabilità. Inoltre, Tentend Opto Electronica ha lanciato il telescopio Richey-Cretien RC, che incorpora lenti asferiche, principalmente utilizzato per osservazioni astronomiche e professionali, particolarmente adatto per il campo della ricerca. Il telescopio RC, con il suo design unico e la qualità dell'immagine eccezionale, è molto apprezzato da osservatori astronomici e appassionati di astronomia in tutto il mondo, diventando una scelta ideale per l'osservazione astronomica. Se avete bisogno di ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi, non esitate a contattarci, saremo lieti di offrirvi la migliore esperienza cliente possibile.